Il tema dell'energia è sicuramente il tema del futuro, dico io insieme a quello dell'acqua. Credo che la parola sia diversificazione, rivedere il mix energetico, perché basta andare a vedere la composizione dell'approvvigionamento di energia del nostro paese per mettersi le mani nei capelli. È l'unico paese che ha una dipendenza dall'estero così alta, oltre l'80% tra acquisto di materie prime e di energia. Ha un forte sbilanciamento sul gas metano, mettendosi totalmente nelle mani dei pochissimi due maggiori fornitori di gas metano. Un paese che non ha investito su tutto quello che riguarda il resto, non ha investito sull'efficientazione del sistema. Adesso l'Unione Europea ha dettato delle linee e noi dobbiamo metterci al passo con queste linee. La riforma del titolo quinto è stata devastante sotto questo aspetto, anche perché la politica energetica per tutti i paesi è una politica strategica. Non può ogni regione decidere la propria politica energetica. Oltretutto la maggior parte delle regioni non l'hanno ancora decisa perché non hanno nemmeno predisposto questi piani. Però, ripeto, è una politica strategica che deve tornare totalmente in capo allo Stato. Quando parliamo di ridefinizione del mix vuol dire guardare a 360 gradi. Noi crediamo nella necessità di un rientro immediato. Immediato sappiamo che si parla in termini almeno di un decennio nel campo del nucleare. Però si tratta di ridurre la dipendenza da gas metano. Si tratta di incentivare le fonti rinnovabili con interventi seri. Non a pioggia come è stato fatto fino ad oggi, ma incentivando quelle fonti e quelle realtà nelle quali le fonti possono dare risorse. Poi io aggiungo un'altra cosa, è un mio pallino. Io credo che i rifiuti debbano entrare all'interno del mix energetico. Se in tutto il mondo i rifiuti servono a produrre energia, perché in Italia, tranne piccoli esempi sporadici, i rifiuti sono un problema e non entro nel mix energetico. La mia non è una provocazione, ma sono convintissimo che i rifiuti debbano diventare una risorsa per produrre energia in questo Paese. Noi paghiamo fiorfiore di miliardi, perché le cifre sono queste, per portare all'estero i nostri rifiuti, con i quali gli stranieri ridendo producono energia che molte volte ci rivendono anche. Credo che i francesi, che hanno quattro termovalorizzatori nel centro della città di Parigi, o i ricchi di Monte Carlo che hanno il termovalorizzatore in centro, non siano meno fessi degli italiani. Probabilmente noi siamo poveri che vogliamo vivere da ricchi, vogliamo fare i servizi dagli altri, ma i rifiuti sono una risorsa e devono diventare risorsa anche da noi. Noi su questo siamo diversi, nel senso che non diciamo che abbiamo un piano. Noi diciamo che l'Unione Europea, come dicevo prima, ha un piano anche sul risparmio energetico, dobbiamo cercare di attuarlo, perché in Italia la dispersione energetica è la più elevata d'Europa, è con cifre che raddoppiano, triplicano. Molte volte hanno dei moltiplicatori ancora più alti rispetto specialmente ai Paesi del nord dell'Europa. Dobbiamo efficientare dunque le nostre abitazioni, le nostre aziende, i nostri uffici pubblici, perché il problema vero è che non c'è efficientazione all'interno della pubblica amministrazione, che è parte rilevante di questo Paese e parte rilevante anche nel consumo di energia. I nostri uffici pubblici sono vecchi, non risparmiano energia, non adottano soluzioni che servano a contenere questi costi, perché sicuramente noi dobbiamo guardare alle fonti nuove, alternative, parlo anche dell'idrogeno, però prima di tutto dobbiamo ridurre lo spreco di energia, non il consumo, perché un Paese deve svilupparsi e andare avanti, ma sicuramente lo spreco. Gli investimenti che noi intendiamo impiegare in questo campo dovranno essere rilevanti, dovranno essere compatibili con i tagli e con gli sprechi che riusciamo ad abbattere, dovranno essere compatibili con le risorse di un Paese che purtroppo, badate bene, paga 70 miliardi di Euro all'anno di interessi sul debito pubblico, una cosa allucinante che blocca qualunque bilancio dello Stato, però noi abbiamo intenzione di spingere molto sul nucleare, perché il nostro Paese anche tecnologicamente è ancora all'avanguardia, sulle fonti rinnovabili come dicevo prima, sulla realizzazione dei rigassificatori che servono a eliminare la dipendenza dai due fornitori di energia che dicevo prima, sulla realizzazione dei termovalorizzatori, e non dimentichiamo, io continuo e parlavo di acqua prima, il nostro Paese ha bisogno di continuare anche in forme diverse, con microcentrali, centrali medie, qualcuna più grande in certe realtà, a utilizzare anche l'acqua come fonte alternativa dove siamo sicuramente all'avanguardia. Da ultimo c'è l'idrogeno sul quale dobbiamo sicuramente lavorare e investire, sul quale però personalmente sono un po' più freddino, perché fino ad oggi tecnologicamente l'idrogeno se ne parla molto, ma siamo ancora un po' indietro, anche perché i costi di energia per produrre lo stesso idrogeno sono ancora molto alti. Dunque andiamo avanti, investiamo nella ricerca e non solo nel campo energetico, perché questo Paese ha bisogno di ricerca su tutto, è sempre stato all'avanguardia perché era capace di fare innovazione nello stile, nell'alimentare e anche nei prodotti tecnologici. Dunque dicevo andiamo avanti, però non dimentichiamo di viaggiare coi piedi per terra. Io credo che l'Udc abbia un grande obiettivo, ridefinendo tutte queste politiche, l'obiettivo è di ridurre la bolletta energetica che nella stragrande parte dei casi è il doppio, o sicuramente il 50% in più di quella che pagano gli altri Paesi europei. Ecco la bolletta energetica, sono poi le bollette che paghiamo a fine mese, le pagano le industrie che producono e alzano i prezzi, le pagano le famiglie e specialmente quelle famiglie che fanno più fatica ad arrivare a fine mese. È un altro modo per difendere la famiglia, riduciamo i costi dei servizi. Io credo che sia una dichiarazione demenziale, quella di chi dice che bisogna attendere a rientrare nel nucleare perché le tecnologie continuano ad andare avanti. Le tecnologie continueranno ad andare avanti. Abbiamo fatto passi da gigante, ricordiamoci che noi abbiamo bloccato il nostro intervento e utilizzo del nucleare sull'onda di una paura giustificata da parte dei cittadini, ma non spiegata da parte dei politici per il disastro di Chernobyl, che era già una centrale non di vecchia generazione, ancora prima, dico io, che ha subito un problema. Non sono state rispettate le norme di sicurezza. Abbiamo visto quello che succede in Giappone, in situazioni di disastro forte, le centrali nucleari non hanno prodotto nessun rischio. E allora cosa dico? La tecnologia va avanti e dobbiamo continuare ad andare avanti, ma sicuramente la Francia, che ha 59 centrali, non sta producendo con centrali di tipo vecchio. E vorrei ricordare a tutti gli ambientalisti di casa nostra che io preferisco produrre a casa mia con certe tecnologie e controllarle, non lasciare che altri producano con queste stesse tecnologie, anzi anche più vecchie, sull'arco alpino, a pochi chilometri da casa nostra, ci vendono l'energia a costi altissimi e noi non abbiamo neanche la possibilità di controllare come questa energia viene prodotta. Almeno se vogliamo essere veramente un paese serio e all'avanguardia e vogliamo veramente tutelare la salute dei nostri cittadini, facciamolo controllando noi come questa energia viene prodotta. Credo che il nucleare al giorno d'oggi sia sicuramente una fonte sicura, molto sicura, c'è il problema delle scorie, ma si sta risolvendo, è già stato risolto in altri paesi, è una fonte che deve essere riportata all'interno del nostro mix energetico. Sicuramente io non credo a tutti quelli che dall'altra parte dicono solo nucleare, quando parliamo di mix energetico parliamo di un giusto equilibrio tra tutte le fonti, siamo moderati e crediamo anche nell'energia che un po' di moderazione ci voglia.